Due gare importanti per l'alta e la bassa classifica, una dal pronostico già scritto e l'altra tutta da giocare. Omnia Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, Avetrana e Galatina sono pronte a scendere in campo per dar vita ai recuperi della giornata numero 27 di campionato, dopo la sospensione delle due gare per impraticabilità del campo lo scorso 22 marzo. Con la sfida del Celestino La Serra, che consegnerà, come da Coppione alla Avetrana, la seconda posizione in classifica a soli due punti dal Fasano, le attenzioni saranno maggiormente rivolte al Città degli Olivi, dove Omnia Bitonto e Unione Calcio Bisceglie si conteneranno tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. I padroni di casa di Pasquale De Cane, arreduci da sette risultati utili consecutivi, cinque vittorie e due pari, paiono aver trovato ormai la quadratura del cerchio e sono pronti a ripiombare in zona play-off, adoperando il sorpasso ai cugini dell'Unione Sportiva, attualmente quinti con due punti ed una gara in più. La squadra di Roma, al contrario dei rivali, non sta vivendo un momento di brillantezza. L'ultimo successo risale ormai lontano 18 febbraio, 1-0 all'US Bitonto, poi due sconfitte, due pari ed un quart'ultimo posto che significherebbe play-out e che sarebbe possibile cancellare solo con un successo che permetterebbe l'aggancio al Barletta. Il pronostico della gara di Bitonto pare dunque pendere decisamente a favore dei padroni di casa, ma le sorprese in questo campionato di eccellenza pugliese, giunto ormai a 270 minuti dal termine, sono sempre dietro l'angolo.